ciao la ricetta di oggi è fresca veloce e light faremo dei toast con crema di rucola e mandorle e bresaula alla fine della ricetta se ti è piaciuta iscriviti al canale lascia un like e fammi sapere il tuo commento per quanto riguarda appunto la video ricetta eccoci qui pronti con il nostro toast velocissimo fresco e leggero un toast con crema di rucola e mandorle e soprattutto alla bresaula se non amate la bresaula potete anche fare l'opzione di un altro tipo di affettato oppure magari usate altre verdure perché no mettiamo la bresaula nel nostro frullatore aggiungiamo poi dell'olio evo uno spicchio d'aglio del sale quanto basta se non lo usate non mettetelo per niente e iniziamo a frullare il tutto a metà del nostro frullato mettiamo la granella di mandorle ed eccola qua pronta non ci resta che tostare il nostro pane in cassetta spalmiamo la nostra cremina e finiamo col mettere la rugola e altra granella avete visto cosa ci vuole per un pranzo una cena veloce per uno spuntino goloso e leggero eccoli qua i nostri toast fatemi sapere voi come li fate se avete qualche altra alternativa se li avete provati e se vi sono piaciuti mi mando un kiss vi aspetto alla prossima